Hello my friends, sono Stella e oggi dobbiamo parlare di cose importanti, finalmente il quinto anniversario è stato rivelato, quindi noi siamo qua per parlare di cose importanti, questo quinto anniversario, come numero di miei mani, quinto anniversario, guarda il mio orologio Gucci, questo perché io lavorare sodo, questo parliamo in un altro momento, se ti interessa mi puoi contattare, mi puoi contattare, mi puoi contattare sul mio pagina Facebook per orologio TV, orologio uguale, no problema my friend, non solo dreamball account, tutto top, top, top my friend, no problema, io, 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 io sono dall'inizio, my friend, di questo gioco, io dall'inizio sono stato top giocatore del Giappone, del Japan server, top player, top club, poi trasferiti sul global e dominato global, cioè dominato, domination, come si dice in italiano my friend, dominazione, scusami non mi usciva la parola my friend, è dominato totalmente questo se, questo gioco, questo tutto, che sono arrivato al punto di dire my friend basta, non voglio più giocare questo gioco, è troppo semplice per me, ok my friend, perché è troppo semplice, troppo semplice, non è divertente, allora io, my friend, siccome io ho dominato questo gioco a livello massimo, ho detto, io dare servizio per persone, dare servizio dreamball, 70 euro, sconti megagalattici, riesci a risparmiare, my friend, aspetta, no, paghi 10 euro in più al normale se usi le Huawei Gallery, my friend, però, no problema, my friend, se tu paghi da me dreamball mi assicura, cioè tu c'hai dreamball, sto acclimitato, contattami subito, non perdere tempo, perché tempo è denaro, denaro, guarda mio orologio, vedi scurre tempo sul mio orologio, ogni lancetta è un potenziale cliente, una ricarica di dreamball che se ne va, e tu in questo momento, my friend, stai buttando il mio tempo, quindi per favore, gentilmente, se vuoi fare serio, rimani qua, entri nel mio canale, discuti con me, se non vuoi fare serio, my friend, puoi anche lasciar stare, tu ora stai dicendo, stella, stella, perché tieni l'eliminazione di Dio, stella, perché tieni luce che ti viene addosso, perché stella, ti spiego subito, my friend, perché guarda, guarda, guarda quinto anniversario, guarda quinto anniversario come è strutturato, possibilità di scioppare un solo mese, io come mangio tutta l'estate, my friend, io come, dove prendo soldi per tutta l'estate, my friend, l'anniversario ci vuole due mesi, questo è per colpa di voi, che vi lamentate sempre, prendete cazzo di reddito di cittadinanza, ma come cazzo vi permettete, questo non è gioco per poveri, ok? Ok, my friend, se non tieni soldi per comprarti Dreamable, top account, non giochi, my friend, perché gioco non è gratis, my friend, io per colpa tua, perché non state comprando Dreamable, devo usare luce di solo in faccia anche alle 5 del mattino, my friend, non è normale, ok? Perché io fatturavo, fino a 5 mesi fa fatturavo 15.000 euro di Dreamable, ok, my friend, e altri 7.000 di account, ok? Io tengo community araba, tengo community turca, tengo community italiana, tengo tutte le community di tutti i tipi, e tu, per colpa tua, per colpa tua, my friend, per colpa tua che mi stai guardando, perché tu prendi reddito di cittadinanza, prendi carta, prendi, aspetta che ti faccio vedere, prendi carta, carta come questa, prendi carta reddito, non è la carta, è una posta per evoluzione, carta reddito di cittadinanza, tu un pezzo di merda, per colpa di persone come te, per colpa di persone come te, non ci sono Dreamable, giocate gratis, se tu cazzo di vergogna, se tu vieni vicino a Stella e dici Stella, voglio vendere il mio account, io subito, bro, quanto hai investito nell'account? Hai investito 1.000 euro? Non posso vendere, my friend, 1.000 euro troppo poco. Quanto hai sciopato? 10.000? 100 euro, my friend, 100 euro ma perché? Perché sei italiano e io tengo alla community italiana, my friend, altrimenti non l'avrei mai potuto vendere, my friend, ok? Perché il tuo account, 100 euro, può essere carino per chi magari vuole giocare nel gold? My friend, i miei account sono Dream Championship, Badge Championship, ok, my friend, ok? Tu pensa che l'altro giorno mi ha contattato Wordzampa, Wordzampa, che ottiene il Badge Dream Championship, ok? Ok, my friend, ok? Ha speso 40.000 euro sopra l'account? Io ho fatto 700 euro, my friend, perché comunque gli mancavano due carte, my friend, gli mancava su base 0,01, my friend, che carta è importantissima, cioè non puoi, non puoi non avere, capito, my friend, non puoi non avere, non puoi non avere su base 0,01, se no il tuo account è già svalutato, cioè non possiamo, non possiamo vendere, non possiamo vendere, ok, my friend, hanno appena trappanato, non so se si è sentito, mi stanno rompendo casa perché soldi per Dreamable, voi non comprate, io non posso pagare affitto, mi stanno sfrattando, my friend, questo, tutto questo non va bene, quindi, my friend, allora parliamoci chiaro, due giocatori mancanti, tutte carte, due giocatori mancanti, 700 euro, se hai bisogno di vendita, vieni da me, minimo investimento su tuo account 10.000, fratello, tu non hai speso 10.000, tu non puoi venire, fratello, non puoi vendere il tuo account, ok? Devi capire le regole del market, ok, my friend? fratello, ok, io tengo tutto, arabo, turco, Bangladesh, tengo tutte le nazioni, tutte io lo tengo, my friend, se tu hai bisogno di vendita account, devi riferire a me, my friend, tutto me, ok, my friend, io ultima cosa ti voglio dire, poi dopo chiudo perché già ho messo questo post nel mio canale di Telegram, ok? Se no mi segui metti i follow, perché è importante, my friend, così non ti perdi le mie Dreamable 78 euro, ok, my friend? ok, ok, my friend, my friend, se tu sei uno di quelli che spende 50 centesimi, my friend, perché ritiri quei 100 euro dal reddito di cittadinanza, my friend, tu non puoi parlare, ok? Vai a lavorare, ok, my friend? Trovati un lavoro vero, ok, my friend, perché devi spendere 1.000 euro su questo gioco, altrimenti non sei nessuno, my friend, ok? Non venire da Stella a Dire Stella, mi vendi account che hai preso account Fresh, tuo account non vale un cazzo, my friend, io non vendo account Fresh, my friend, ok? Io voglio ricevuta 10.000 euro, my friend, se non mi dai ricevuta non ti vendo niente, my friend, qua sullo servizio serio, top seller, capito? Top seller Italia, Arabian Community, my friend, se non vi piace il gioco, fate una cosa intelligente, my friend, accanate, ok? Accanate il gioco, my friend, e non venite qui a vendere account da Stella, perché se non sono buoni Stella non prende, detto questo mancava un minuto e mezzo per monetizzare il video, ma mi sono checcato il cazzo di essere Stella, quindi vi ricordo che nella descrizione tutte le sere su Twitch siamo live, my friend, ok? My friend, tutte le sere siamo live con top pvp, my friend, pvp top, top server global, Japan non ancora, my friend, però presto, arriviamo anche in Japan, ok? Ok? E poi abbiamo gruppo Telegram, molto bello, dove puoi parlare di tutto quello che vuoi, puoi parlare del tempo, della cucina, di cosa hai mangiato l'altro giorno, di dove vai sabato, domenica e durante le festività. My friend, se senti trapano nel microfono perché mi stanno rompendo casa, non ho pagato affitto, perché voi non volete shoppare questo anniversario per i free to play, mi fate schifo, ok, my friend? Chiuse discussioni, non venire da me il tuo account, 10.000 euro o non vendita, vendita non prendo io, ok? Ok, my friend? Ok. Per qualsiasi cosa che hai bisogno, collaboration, c'è il canale Andrea Baldoni, del canale Illustranium Hard, dove puoi trovare Fresh Account a disposizione della community, ok, my friend? Io, Fresh Account, pago 4 dollari e 99 centesimi, ma per te, my friend, rivendo a 30 euro, my friend, questo perché io faccio piacere, io comunico con top seller di cena, e ti rivendo a te, my friend. Quindi, my friend, mi raccomando, Servizio Stalla Signore è il primo in Italia, l'unico che c'è qui dal 2018, ok, my friend? Un bacione e zuccherato, my friend. Ci becchiamo alla prossima e stacca questo reddito, vai a lavorare.